Ciao Michela, benvenuta all'Ortigia Film Festival e salute con questa bella... Salute, analcolica, ricolosamente, io non bevo. Allora, attrice, anche scrittrice, adesso di un romanzo, qual è il piacere della scrittura per te? Guarda, il piacere della scrittura, ovviamente me la porto dietro, diciamo, dalla sceneggiatura, per cui ho sempre scritto in realtà. Il piacere della scrittura è il piacere della lunga durata, perché comunque puoi rimanere con le persone per un sacco di tempo e possono rivederti senza fare rewind, possono rileggerti e tornare indietro. E poi è intima la scrittura, è la più intima di tutte. Parliamo del tuo romanzo, non me lo chiedete più. Quanto ci pensavi a questo romanzo, a parlare delle donne che scelgono di non avere figlio, che si ritrovano a non avere figli e che sono contente così? Ma guarda, ci pensavo da tanto, nel senso che anche 9 luna e mezza, in qualche maniera, la storia di due sorelle, una delle quali non vuole figli, per cui, in qualche modo, 9 luna e mezza è il mio primo genito e questo libro è il mio secondo genito. Ci pensavo da tanto nella misura in cui per me era una cosa normale, cioè una donna senza figli è assolutamente nella norma, per me è la mia normalità quotidiana, però a un certo punto mi sono accorta che invece bisognava dire un po' più ad alta voce, tipo un coming out che si può vivere senza figli, senza fare delle vite di serie B, perché comunque c'è ancora un pregiudizio nei confronti della donna che non vuole avere figli, come di una donna in qualche modo inaffidabile. Allora, nel mio modo divertito, spero divertente, volevo dire questo, ho provato a dire questo, ho provato a dire, io non ho figli, non ne voglio, ma la mia vita è... e non dipende dal mio tenore di vita, ma la mia vita interiore di essere umano è una vita di una persona che sta bene. Qual è secondo te la forza, la cosa più bella delle donne? Quelle, non soltanto quelle di oggi, ma in generale anche quelle di ieri, la cosa che anche un po' ti commuove? La resistenza, la resistenza in assoluto, non parlo solo delle donne della resistenza, che sono state donne straordinarie, ma la resistenza delle madri, che sono dei supereroi per me, lo dico anche nel libro, la resistenza delle non madri, che comunque subiscono un giudizio, la resistenza delle donne che subiscono per tanto tempo cose difficili, la resistenza delle donne che si ribellano e quindi portano avanti dei discorsi pionieristici, secondo me è la nostra caratteristica più interessante. Com'è Michela regista, per esempio, con i suoi attori? Resistente, molto resistente e guarda, io sono un'entusiasta, sono talmente felice di fare questo, sono arrivata tardissimo alla regia dopo 30 anni di mestiere, per cui per me è un privilegio riuscirlo a fare, non è scontato, non è facile che qualcuno ti dia la possibilità, per cui io vivo in una bolla di gratitudine e vivo il set con tanta gioia, sia quando faccio l'attrice che quando faccio la regista, e credo che questa gioia e questa gratitudine portino anche fortuna, in qualche maniera, per cui ho avuto un set sereno, perché mi sono preparata per tanto tempo, perché non volevo farmi parla dietro, come si dice a Roma, no? Ora mi sono preparata tanto a questo film, per cui, diciamo, quello che devo fare tecnicamente più o meno l'avevo capito. Ho dovuto gestire degli imprevisti e con gli attori ho cercato di lavorare sul cuore. Nel tuo libro a un certo punto, dice, verso la fine essere donna è una gran ficata. Sì, proprio sul finale lo dico. Sì, perché in realtà le donne sono madri sempre, no? Per unire adesso il film al libro, c'è una frase che dice Paola Tiziana Cruciani, in nove luni e mezzo, che le donne sono madri sempre, che mettono al mondo un libro, un film o una canzone. Io l'ho fatta tutte e tre, ho fatto un libro, un film, una canzone. Veda mia mi è capitato di fare il libro, film e canzone, ed è la mia forma di maternità, in qualche maniera. E essere donna è una figata, perché paradossalmente questo fatto che siamo, noi abbiamo una marcia in più, una chance in meno. Quindi il fatto che comunque siamo un po' due, tre passi indietro, non voglio fare la femminista, dico solo che comunque siamo pagate meno dei nostri colleghi maschi per fare un esempio X, no? Per cui in questo l'essere tre passi indietro ci permette di avere forse più futuro davanti.